Lavoro precario. Estrema deindustrializzazione e frontalierato come settore, se così si può dire, col maggior numero di occupati. E l'istantanea del mondo del lavoro nel VCO emersa dai dati rilanciati dai sindacati sul palco di Verbania lo scorso 1 maggio. Marco Marceddu di FIOM CGL ne ha elencati alcuni molto esemplificativi come la bassa incidenza occupazionale del settore manifatturiero, tra cui l'industria... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.